Da lunedì 22 a domenica 28 gennaio il Comune di Vallefoglia taglierà il nastro del progetto simbolo di Pesaro 2024, ovvero 50x50 capitali al quadrato. Progetto che vede 50 comuni della provincia di Pesaro Urbino a turno capitale per una settimana lungo tutto il 2024. Sarà dunque Vallefoglia a rompere il ghiaccio con un programma dal titolo Questa bella d'erbe famiglie animali, una nuova armonia tra l'umanità e la terra. Settimana da Comune Capitale che coincide con l'attesa inaugurazione del teatro Giovanni Santi di Bottega che sarà auditorium per musica, cinema e teatro e sarà fulcro del programma di Vallefoglia Capitale. Noi siamo orgogliosi di aprire la prima settimana della Capitale Italiana della Cultura anche con l'inaugurazione di un nuovo teatro. Ringraziamo il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il vice sindaco Vimini per l'impegno anche ad incalzarci a finire in tempi utili per quella settimana il nuovo teatro Giovanni Santi. Entrare per Vallefoglia una città industriale in una dimensione nazionale e internazionale anche sul piano culturale passiamo da un piccolo teatro di 150 posti rimessa a nuovo Teatro Branca Sant'Angelista, al Teatro Giovanni Santi circa 340 posti nel centro di un'area che ha quasi 50.000 abitanti e che insieme a Pesaro fa quasi 150.000 abitanti ed è quindi un bel bacino anche per l'attività culturale che per la prima volta a Vallefoglia avrà un teatro diciamo per tutta quell'area per i comuni che possono utilizzare anche i gruppi locali come diciamo i cori, i gruppi musicali, le bande, tutti quelli che fanno un'attività di base che per noi è estremamente importante. Settimana da Capitale che avrà un gratificante antipasto istituzionale nella mattina di sabato 20 gennaio con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al taglio del nastro del nuovo Teatro Santi mezz'ora prima dell'arrivo alla cerimonia della Vitri Frigo Arena. Si verrà come pare un passaggio per il taglio del nastro anche al Presidente della Repubblica che poi sarà a Pesaro nella giornata del 20 e per noi un onore stratosferico per me e il terzo Presidente che incontrerei quindi sarei particolarmente contento anche di questo. Una scelta credo azzeccata anche perché si è riuscito a far coincidere questa settimana con l'apertura del teatro attesa da tanto tempo che è stato un grosso investimento del Comune di Vallefoglio, un teatro da oltre 300 posti che sarà un polmone artistico nei 12 mesi per tutto il territorio naturalmente e che diventa un grande protagonista della Capitale 24. Quindi un'occasione per ritrovarsi anche per gli altri comuni per studiare un po' le modalità di essere capitale poi nelle settimane a venire di un giro che crediamo si arricchirà delle esperienze reciproche che soprattutto distribuirà a livello territoriale l'entusiasmo, la partecipazione, la voglia di esserci, la voglia di vivere come tutto un territorio provinciale un'opportunità importante come quella della Capitale. A sostegno del progetto di 50x50 Capitale al Quadrato ha anche il supporto della Banca di Pesaro che sosterrà i programmi culturali del territorio a cominciare da Vallefoglia. Un ruolo importante nella programmazione l'ha avuto l'orchestra filarmonica Rossini svolgeranno il concerto d'apertura e di chiusura che saranno gli unici due eventi alle ore 18 il lunedì e la domenica. Tutti gli altri eventi saranno serali alle ore 21. Sempre con l'orchestra filarmonica c'è un appuntamento di rilievo con la presenza di Mirko Palazzi, un recital lirico-sinfonico con un artista di livello internazionale, insomma un artista locale nato a Rimini, diplomato nel Conservatorio Rossini però ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Poi tanto altro durante la settimana un concerto di jazz con Aldemaro Moltedo Jazz Band, quindi artisti, cantanti, musicisti di livello e poi la valorizzazione di artisti, compagnie locali del territorio di Vallefoglia ad iniziare dal corpo bandistico Giovanni Santi. È il 170esimo anno di attività quest'anno mentre il venerdì ci saranno i cantori della città futura diretti dal maestro Bartolucci che avranno una collaborazione col centro danza performance che faranno una esibizione di danza classica. Per chiudere il sabato c'è la compagnia dialettale del nostro territorio, la compagnia teatrale dialettale Improvvisando che reciterà il fidanzato della fidanzata. È un evento che rientra in un'iniziativa fita che valorizza i dialetti marchigiani, sono 5-6 serate nel teatro di Sant'Angelo di Lizzola e il teatro Branca e con questo nuovo teatro, quindi l'amministrazione comunale di Vallefoglia, si dota di due teatri, uno di 150 e uno di 350 posti e quindi la programmazione culturale che era prevalentemente estiva diventerà una programmazione annuale.